C'è una notte in particolare che amiamo vivere. Vestiti di bianco e cene o picnic a lume di candela, da Fosso Seiore a Gabice, passando per le suggestive mura medievali e gli spazi verdi allestiti a Gradara, per la notte di San Lorenzo l'intera riviera del San Bartolo è stata illuminata da oltre 16 quintali di fiammelle fornite ai bagnini delle spiagge posizionate su quasi mille paletti sull'acqua. Nonostante gli sforzi, però, per l'evento clou dell'estate le presenze sono calate, vuoi per la paura dei contagi, vuoi per il Green Pass obbligatorio, ma anche per la chiusura delle attività, in concomitanza dell'evento, imposta da un'ordinanza per gli esercenti che non aderivano all'iniziativa. C'è chi ha sorto il naso, come Confcommercio e partiti politici, chi ha preferito andare altrove e chi invece ha colto l'occasione per uscire e passare una serata in compagnia. Ho preferito rimanere un po' in disparte, diciamo, pur avendo il Green Pass, però ancora non me la sento del tutto. Avete partecipato ieri alla Notte delle Candele? Ahimè no. Come mai? No, perché avevamo un altro impegno. Ah, ecco. Solo per quello. Ieri sera avete partecipato a Candele sotto le stelle? No, perché l'abbiamo fatto già tante volte, abbiamo preferito evitare... Non sembra meno. Non sembra meno, non sapevamo come andava a finire, comunque abbiamo evitato noi. Lungo mare era pieno di gente. Sulle spiagge invece un po' meno? Sì, eravamo 4-5 famiglie, basta. È stato in zona lungomare oppure in spiaggia? Tutte e due. C'era gente, assembramenti? No, no, tranquillo comunque. Posso chiedere se ieri avete partecipato alla Notte delle Candele? Sì, abbiamo partecipato. Dove eravate? Eravamo a Bagnacciuga, in fondo al Viale. C'era gente, è stata una bella serata? Sì, c'era abbastanza gente e una serata sì carina, in Baia c'erano le Candele, mentre so che qua in Viale ce ne erano di meno, non tutti hanno aderito, quindi sì, ci siamo divertiti, è stato carino. Che cosa ne pensate di questa vicenda del Green Pass obbligatorio e magari anche locali che dovevano rimanere chiusi se non aderivano all'iniziativa? Allora, non so dei locali che dovevano rimanere chiusi, so che però a Bagnacciuga ci è stato detto che bisognava avere Green Pass, noi eravamo una compagnia di ragazzi giovani, quindi grazie a Dio tutti più o meno, pochi tamponati, però se no col Green Pass per il vaccino e quindi abbiamo trovato questo abbastanza nella norma, ecco non è che ci ha scandalizzato i nostri piani, quindi ok. Io non ne penso nulla, a me della Candele non mi può fregare di meno, io ieri sera sono stato a Fano, a San Francesco, a sentire l'amorante che recitava Medea, per il resto delle candele non me ne frega di meno, assolutamente, tutto quello che il sindaco dice, chi vuole andare ci va, chiaramente con tutti i limiti e le possibilità, però io sono stato benissimo, eravamo in centro in questa splendidissima chiesa di San Francesco a Fano. Dunque lei si è partecipato a quell'iniziativa, significa che ha il Green Pass, che cosa ne pensa di questa certificazione? Il Green Pass io ce l'ho, ho la doppia vaccinazione perché ho anche i miei anni, io capisco oggettivamente che può creare dei problemi a molti, non sono nemmeno perfettamente d'accordo su queste cose, non sono manco d'accordo su quelli che invocano libertà, libertà, sì è un impiccio.